cinematico mi chiede di parlargli del mio percorso di formazione e se ho dei consigli da dare ai giovani allora di questo ne ho ampiamente parlato sul mio canale arte per te cercatemi perché lì c'è proprio tutto riferito al mondo dell'arte anche dei video in cui parlo di queste cose il mio per il mio percorso un percorso un po lungo e un po tortuoso parto dal liceo classico il liceo che ho fatto infatti non è un liceo artistico né allora c'era anche l'istituto d'arte né un istituto d'arte perché i miei genitori erano contrari a che io intraprendessi gli studi artistici visti come studi non troppo approfonditi successivamente mi sono iscritta in giurisprudenza che ho frequentato per ben sei anni con scarsissimi risultati perché non era il mio non era ciò che mi piaceva ma era ciò che facevo seppur volontariamente per compiacere i miei genitori poi a un certo punto un evento traumatico della mia vita cambia tutto muore mio padre molto giovane a 59 anni e mi accorgo d'improvviso quando avevo 24 anni che la vita è troppo breve per essere sprecata a fare qualcosa che non piace così mi prendo di coraggio vado da mia madre e chiedo se potevo cambiare indirizzo di studi ero al secondo anno fuori corso e mia madre mi disse sì l'importante è che tu ti dia tutte le materie entro giugno fu così che mi iscrissi in accademia di belle arti specializzazione restauro era una all'epoca un diploma di laurea sperimentale e intrapresi quel percorso che finì in tre anni una sessione il corso di studi all'epoca era di quattro anni il corso di studi completo con 110 c'è lode mi va di dirlo perché non è mai troppo tardi ragazzi doppiando cioè finendo gli studi prima di molti miei colleghi di giurisprudenza quindi arrivai a quel punto da lì in poi iniziare a lavorare nel mondo dell'arte come docente da prima come assistente in accademia di belle arti e poi successivamente acquisì delle cattedre all'interno dell'accademia di un accademia di belle arti della mia città dopo qualche anno senti l'esigenza di approfondire il mio percorso universitario perché ero molto brava nella pratica ma un po lacunosa nella teoria e quindi presi una laurea magistrale in storia e conservazione delle opere d'arte all'università di bologna adesso però seconda parte per capire il percorso seconda parte del video sul mio percorso di studi eravamo arrivati all'acquisizione della mia seconda laurea in storia e conservazione delle opere d'arte laurea magistrale presso l'università di bologna sede di staccata di ravenna una bellissima laurea del tutto teorica che mi permetteva di fondere conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche avevo acquisito in accademia questo lo senti come un'esigenza professionale proprio perché siccome insegnavo in accademia di belle arti mi rendevo conto di avere ancora qualche piccola lacuna che dovevo colmare perché mi piaceva studiare arte quindi lo facevo molto volentieri devo dire che io non sono una di quelle persone nate con il dono del disegno della pittura sono una cui è sempre piaciuta la storia dell'arte a cui sempre piaciuto disegnare ma che non ero così fluente nel disegno e così immediata nella riproposizione dei soggetti sono una creatura accademica nel senso che io ho imparato a disegnare a dipingere a costruire il quadro a capirne la grammatica l'essenza l'interpretazione assolutamente attraverso lo studio per poi fare mio quello studio e svilupparlo sono sempre stata curiosa molto curiosa e sono anche sempre stata una persona che è andata al di là di quello che è lo studio pratico mi chiedi un consiglio ti do un consiglio ti dico come studiavo io la storia dell'arte per farla mia io sfogliavo i libri e guardavo le opere d'arte e ne traevo una mia interpretazione critica cercavo di valutarne lo stile le forme l'epoca e di trarre da questo il messaggio che l'autore voleva dare solamente dopo aver fatto una mia sintesi visiva di quello che vedevo andavo a vedere quella che era la spiegazione ufficiale della storia dell'arte molte volte combaciava molte volte no ma questo non mi ha mai dato l'idea che io sbagliassi e che quello che c'era scritto sul libro fosse assolutamente vero perché è sempre un'interpretazione di storici dell'arte o di critici d'arte di conseguenza pur valutando possibile l'idea che leggevo nel libro tenevo in considerazione anche quello che io traevo dalle opere d'arte fondevo le due cose creandone esperienza l'esperienza è molto importante nel mondo artistico non posso scindere l'esperienza di studio dalla tantissima esperienza pratica e lavorativa fare fare l'arte del fare terza e ultima parte del video spero forse la più interessante per chi sta intraprendendo questa carriera quanto mi è servito il percorso di studi moltissimo mi è servito moltissimo perché mi ha dato l'inizio lo start l'incipit per fare quello che faccio non consiglio ora che sono grande di iscriversi all'istituto d'arte poi l'accademia di belle arti e basta perché si potete farlo è liberissimi ma poi dovrete approfondire perché ci sono tante altre cose e chi studia arte chi deve fare a dell'arte il proprio mestiere deve conoscerle quasi tutte le cose del mondo per poterne parlare in modo figurativo e interpretarle di conseguenza essere focalizzati solo su una cosa a volte può essere molto controproducente specializzarsi con l'università con è molto importante ma quella che è molto importante è la curiosità cioè se non avete l'opportunità di frequentare un'accademia di belle arti un istituto da un liceo artistico se non avete i soldi per poter intraprendere questo tipo di studi che tra l'altro sono molto costosi nessuno vi vieta di informarvi istruirvi a culturarvi autonomamente devo dire che molto di quello che so oggi io l'ho fatto in forma autonoma e l'ho fatto in maniera indipendente una volta laureata non mi sono voluta fermare a quelli che erano i programmi ministeriali ma ho voluto ampliare le mie conoscenze ho voluto ammodernarle il mondo dell'arte è in continua evoluzione io mi occupo anche di riciclo crafting iconografia cioè io spazio molto grazie al mio background professionale ho un'ampia visione del settore arte e di conseguenza questo va sempre aggiornato perché le tecniche artistiche progrediscono come progredisce qualcuna ognuna qualunque scusate disciplina nel mondo non sentitevi mai arrivati questa è una cosa che vi dico sempre perché la cosa che dico sempre a me stessa non sentitevi mai arrivati e rimanete sempre curiosi non siate tronfi dei vostri risultati ma mettetevi sempre in discussione e continuate sempre a mettervi in gioco a leggere ad informarvi a confrontarvi con il mondo siate aperti nei confronti del mondo e guardate le cose non per come sono ma per come potrebbero essere oltre che così come appaiono datevi sempre una seconda possibilità e ricordatevi che non è mai troppo tardi per abbracciare il settore artistico ciao